La tragedia di Roccalumera ha sconvolto anche gli ambienti universitari di Messina. Stefania Ardì, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita, era studentessa del corso di scienze infermieristiche. In occasione della presentazione alla stampa dell'evento di orientamento universitario L'Arcipelago della Conoscenza, che si terrà il 14 e il 15 maggio, il professore Dario Caronite ha espresso il cordoglio dell'Ateno Messinese per il drammatico evento. Una delle sedie della Sala del Senato è rimasta simbolicamente vuota. Una tragedia che ci ha lasciato veramente sgomenti. Non è la prima volta che questi fatti accadono e tutte le volte però che si ripetono è sempre una pietra soprattutto sul nostro cuore, soprattutto nel momento in cui è una persona che appartiene alla nostra comunità, alla nostra comunità accademica. Ed è triste dover annunziare questi eventi, che sono anche eventi di festa, in concomitanza con questo lutto che ci ha colpito.